Contatto scientifico con i piani di esistenza più sottili. Chi era Albert von Skrenzen-Notzing? Commento. Albert von Skrenzen-Notzing, 1862-1929, medico tedesco, ordinario di fisiologia all'Università di Monaco, è stato uno dei pionieri del contatto scientifico con i piani di esistenza più sottili. Anche ai suoi studi si deve l'insegnamento successivo dei maestri immateriali.